Buonasera e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con una notizia drammatica che arriva dall'autostrada A18 dove ha perso la vita. Questo pomeriggio un uomo sulla sessantina che a bordo della sua Fiat Panda nel tratto tra Giardini Naxos e Taormina si è schiantato a velocità contro un'autocisterna. Vediamo il servizio di Mario Grasso. Ancora sangue sull'asfalto dell'autostrada Messina-Catania. Oggi, poco dopo le ore 16, nel tratto compreso tra Taormina e Giardini Naxos, all'altezza della galleria denominata Sant'Antonio, una Fiat Panda e un'autocisterna sono venute in contatto tra loro. Probabilmente si è trattato di uno scontro frontale in un tratto di autostrada in cui si viaggia su un'unica carreggiata con doppio senso di marcia. Non c'è stato nulla da fare per il conducente della Fiat Panda che sarebbe morto sul colpo. Nell'incidente sono rimaste coinvolte, sebbene indirettamente, altre due autovetture all'interno della galleria Sant'Antonio. Il sinistro si è verificato sulla carreggiata Lato Monte, dove si viaggia con il doppio senso di circolazione per dei lavori in corso sull'altra carreggiata, quella Lato Valle. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante viaggiava in direzione di Messina, mentre la Panda andava da Taormina verso Giardini Naxos. Per cause in corso di accertamento, i due veicoli sono venuti in contatto tra loro. La Panda è stata sbalzata sulle barriere all'uscita del tunnel, mentre l'autocisterna, sbandandosi, è arrestata poco dopo. Sull'opposto sono giunte le ambulanze del 118 di Taormina, Giardini e Letoianni. La polizia stradale di Giardini Naxos, i vigili del fuoco del distaccamento di Letoianni, che hanno stratto il corpo del conducente dall'autovettura. Altri tre feriti lievi sono stati condotti all'ospedale di Taormina. L'autostrada è stata chiusa tra gli svincoli di Roccalumera e Giardini Naxos, con code immaginabili sia all'interno della stessa A18 che agli svincoli di Giardini e Roccalumera. Il traffico è stato deviato sulla strada statale 114, che attraversando Taormina e Giardini si è di fatto bloccata, per buona parte della serata. Cambiamo argomento, cronaca giudiziaria. Condannare a un anno e due mesi ciascuno l'ex presidente della regione siciliana, Raffaele Lombardo, e suo figlio Toti per il reato elettorale. E a otto mesi ciascuno gli altri imputati, Ernesto Privitera, Angelo Marino e Giuseppe Giuffrida. E la richiesta del PG Angelo Busacca, conclusione della sua requisitoria, nel processo che è iniziato oggi davanti alla prima corte d'appello di Catania, dopo il ricorso della procura contro la sentenza di assoluzione con formula perché il fatto non sussiste, emessa dal Tribunale monocratico presieduto da Laura Benanti. L'udienza è stata aggiornata al 27 marzo prossimo per le ringhe delle difese. Secondo l'accusa, i Lombardo avrebbero promesso due posti di lavoro in cambio di voti di favore a favore di Toti, eletto con 9.633 preferenze nella lista dell'MPA alle regionali dell'ottobre del 2012. Parliamo adesso di cronaca nera. Arrestati due stortori a Mascaluccia vessavano imprenditori locali con ripetute richieste di pizzo. Due stortori sono finiti in manette a Mascaluccia, arrestati dai carabinieri della compagnia di Gravina di Catania, che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Tribunale di Catania su richiesta della procura, nei confronti di due catanesi, Antonio Di Stefano e Vittorio Pietro, entrambi di 40 anni. I due si sono resi protagonisti di episodi di estorsione continuata, pluriaggravata dalla metodo mafioso, assoggettando e intimidendo le vittime. E agendo in nome dell'associazione di tipo mafioso, storicamente denominata clan Santa Paola Ercolano, le indagini dei carabinieri hanno consentito di accertare l'attività estorsiva, commessa ai danni di due imprenditori di Mascaluccia, costretti all'avversamento periodico di una somma di denaro in contanti a titolo di pizzo. L'intento era quello di agevolare la clan mafiosa di appartenenza. L'attività estorsiva è stata portata a compimento nei confronti di due note attività commerciali ubicate nel territorio di Mascaluccia. L'attività investigativa ha permesso di raccogliere elementi di prova, raccolte attraverso attività di osservazione, pedinamento e monitoraggio dei soggetti indagati, acquisiti anche filmati video, estratte dalle telecamere di sorveglianza dislocate sul territorio. Importante è anche la collaborazione da parte delle vittime vessate, che hanno confermato le ipotesi accusatorie di Stefano e Vittorio. Sono così finiti in manette. A Catania se ne va un pezzo della storia della tradizione dolciaria siciliana. È morto concetto Bunvegna, maestro pasticcere, che insieme a Nunzio Verona 49 anni fa diede vita ad una delle più conosciute e apprezzate pasticcerie in Via Siago. 49 anni fa, in Via Siago a Catania, con l'inaugurazione del laboratorio artigianale Verona e Bonvegna, ebbe inizio una dolce avventura che, nei decenni, ha qualificato ancor più la già prestigiosa scuola pasticcera catanese che, la scomparsa di concetto Bonvegna, all'età di 74 anni, di certo non interrompe. Anche oggi si lavora in pasticceria. Malgrado le lacrime, corrono veloci giù dagli occhi dei tanti che, in questi anni, hanno lavorato, hanno conosciuto concetto Bonvegna, che, assieme a Nunzio Verona, è il fondatore della rinomata pasticceria che, tra babaca, nori, pasticcini, ha reso famosa nel mondo la pasticceria catanese. Anche oggi leader, per gradimento, non solo in città o nell'isola, ma pure su internet, nei siti specializzati o in quelli per semplici turisti, dove, al primo posto, regna sempre l'insegna Verona e Bonvegna. Insomma, una tappa fondamentale. Per chi vuole rendere più dolce, sapientemente più dolce, la propria giornata, frutto del lavoro della benegazione che Bonvegna e Verona hanno sempre anteposto anche agli stessi interessi aziendali. Nel giorno del dolore, dicevamo, la storica pasticceria rimane aperta, ci sono impegni da assolvere, commesse già pronte, perché il cliente è sempre il cliente. Il cliente è da per dire, ha una roba ordinata, quindi poi domani facciamo il nostro davvero di stare chiuso. Tanti anni insieme per, dicevo, poc'anzi rendere più celebre la già celebre pasticceria catanese. Sì, insomma, noi dal momento che abbiamo una certa età e abbiamo avuto grandi maestre, di conseguenza siamo un pochino comportati nella stessa maniera. La vostra è una pasticceria che ha vissuto tante generazioni, la generazione del passaparola, Bonvegna-Verona, ovvero nel Bonvegna, la migliore pasticceria di Catania. Oggi si va su TripAdvisor, dall'estero tutte recensioni assolutamente positive. Grazie a Dio abbiamo avuto questa fortuna, diciamo. Fortuna fondata sul lavoro di due persone. Noi altri l'importante è avere la coscienza e adoperare materie prime buone e poi se uno conosce il mestiere, insomma, ci arrabbiamo. Chi era Bonvegna e chi è Verona? Due semplici pasticceri alla buona. La pasticceria ovviamente terrà ancora il nome Bonvegna e Verona o Verona e Bonvegna, perché non si è capito mai se è Verona e Bonvegna o Bonvegna e Verona. Non è Verona e Bonvegna, ma comunque è la stessa cosa. E ci sono i ragazzi, oggi ci sono i figlioli che devono portare avanti anche perché è in lavoro. Entrando qua stamattina lei cosa ha pensato? Tutte cose purtroppo. E anche adesso. Pazienza. E la vita, no? Certo, certo. Già comunque eravamo a conoscenza del brutto male che c'era. E di questo. I funerali di concetto Bonvegna si terranno domani alle ore 10 a Catania nella chiesa Santa Maria della Guardia. Giudizi negativi ci spostiamo ad Acireale sull'attività di alcuni consiglieri ed ecco che scatta la mozione di sfiducia all'indirizzo del Presidente del Consiglio Comunale. Seduta consigliere di fuoco ieri a Deciriale scontro tra l'opposizione compatta e il Presidente del Consiglio Comunale Sonia Botto per la quale è stata presentata un'azione di sfiducia che verrà approfondita in una seduta d'aura apposita in calendario la prossima settimana al massimo entro 15 giorni. Un atto di valenza esclusivamente politico in cui emerge la forte contrapposizione con la Presidenza del Consiglio le cui affermazioni rilasciate da un organo di stampa nei giorni scorsi in cui la Botto bollava di mediocreità l'attività consigliare di alcuni esponenti ha surriscaldato gli animi. Apreti cielo, le parole del Presidente hanno scatenato un vespaio e acceso il dibattito nel civico consesso con gli otto consiglieri di opposizione compatti nel rappresentare la mozione e nel chiedere una seduta ad hoc mentre la maggioranza pentastellata si è scherata a favore dell'operato del Presidente a Botto e non è la prima volta che le opposizioni manifestano perplessità sulla gestione dei lavori d'aula è stata la consigliera Sabrina Renna ad avanzare la mozione di sfiducia concordata con tutti i componenti dell'opposizione. Si tratta di una cattiva gestione dei lavori d'aula penso che in realtà il ruolo del Presidente dovrebbe essere un ruolo di tutela e di salvaguardia di tutto il Consiglio Comunale noi spesso abbiamo registrato da parte della Presidenza un atteggiamento volto a sminuire le minoranze abbiamo anche letto dalle colonne della Sicilia certamente dei commenti che non si attengono e non si addicono al ruolo di Presidente e chiaramente da questo abbiamo voluto portare in aula una mozione forte che riuscisse a far sentire la voce anche delle minoranze e chiaramente a rivendicare quel principio di democrazia che ad oggi pare essere scomparso. Un atto meramente politico chiariscono i promotori consapevole che il Presidente del Consiglio non può essere sfiduciato ci sono sentenze di tar e CGA a tutela dell'organo politico ma questo non esclude che la questione possa essere approfondita nel civico consesso. In realtà si tratterebbe di una mozione neanche di sfiducia ma di revoca noi la chiamiamo di sfiducia proprio perché vogliamo dare un taglio politico alla mozione che abbiamo ieri presentato in aula e il CGA e il TAR in questo senso si sono espressi chiaramente il nostro è chiaramente un intervento meramente di natura politica perché in aula si gestiscono i processi amministrativi ma anche e soprattutto quelli politici quindi non ha un valore vincolante quindi anche qualora fosse votata all'unanimità certamente il Presidente non sarebbe comunque costretto a dimettersi però chiaramente dovrebbe valutare secondo me a questo punto l'opportunità di permanere nel suo ruolo. A Giarre adesso dove il Sindaco annuncia importanti novità riguardo il dissesto che ha colpito il Comune. Genitori e alunni del plesso scolastico Domenico Savio di Carruba chiedono risposte al Sindaco Danna sul servizio di scuolabus assente nella frazione gerrese dall'inizio dell'anno scolastico. Il pulmino in questione ancora in officina per lavori necessari di riparazione rientra tra i quattro impiegati giornalmente dal Comune per l'attività di trasporto nelle frazioni di Carruba Santa Maria la Strada, Macchia e San Leonardello. Il servizio verrà ripristinato prima possibile rassicura il Sindaco Danna che sottolinea le varie difficoltà a cui l'amministrazione è dovuta andare incontro dal mese di luglio con la situazione di dissesto su cui importanti novità sono state annunciate stamattina dal primo cittadino. Questa sera in sede di una seduta straordinaria di Consiglio Comunale sarà presentato un piano di riequilibrio riformulato messo in campo nelle scorse settimane e che potrebbe cambiare le sorti del Comune. Noi abbiamo in dotazione quattro pulmini sono ormai vetusti meriterebbero pian pianino un piano di sostituzione che ovviamente con le situazioni precarie di natura finanziaria che il Comune ha vissuto negli anni passati diventa a maggior ragione adesso difficile poter fare in tempi rapidi. Tre pulmini sono stati riparati rapidamente sono stati rimessi in funzione subito. Quello che normalmente serve la zona di Caruba, San Leonardello ha in questo momento una manutenzione che richiedeva qualche pezzo di ricambio che doveva arrivare. Insomma c'è stato sicuramente un rallentamento rispetto ai tempi che noi speravamo. Immaginavamo già dopo i morti che potesse entrare in funzione probabilmente lo faremo nei prossimi giorni e quindi arriveremo in realtà a dicembre. Un ruolo importante in questa situazione ha giocato anche la problematica che ha dovuto affrontare con il dissesto ultimamente il Comune. Dice bene lei rispetto alla questione del dissesto sicuramente va a incitere rispetto all'efficacia dell'azione amministrativa. Tuttavia però voglio approfittare dicendo che proprio in queste ore è maturato il convincimento della nostra amministrazione di chiedere a tutto il Consiglio, maggioranza e opposizione di poter approvare un piano di riequilibrio riformulato che noi proprio nelle scorse settimane abbiamo messo in campo nel momento in cui abbiamo visto che nel 2016 e nel 2017 soprattutto il Comune è andato in un avanzo di amministrazione quindi c'è un sensibile in versione di tendenza rispetto alla situazione che aveva portato al dissesto finanziario dell'ente. Questa della riformulazione si appiglia un po' giuridicamente al cosiddetto mille proroghe che come sapete una legge è entrata in vigore alcuni mesi orsona e che dava tempo ai Comuni di poter riformulare un piano di riequilibrio che avevano già inoltrato e io ricordo che il Comune di Giare lo fece anche con la mia amministrazione nel settembre 2016 e non è mai stato verificato preso in considerazione dagli organi competenti e poi nonostante questo piano si arrivò al dissesto. Adesso noi con questa norma lo stiamo riformulando e ripresentando. È una possibilità forse succedo per la città perché non sappiamo come gli organi sia la Commissione Ministeriale a Roma che la Corte dei Conti risponderanno rispetto a questa nostra ipotesi e tuttavia con senso di responsabilità credo che l'amministrazione e il Consiglio tutto questa chance se la deve giocare. Ritorniamo ad Acireale dove arriva l'ok da parte della Regione al finanziamento per la realizzazione della stazione in pieno centro Piazza Cappuccini. C'è il parere positivo di RFI e la disponibilità da parte della Regione Siciliana a finanziare con 5 milioni di euro la stazione ferroviaria Acireale Centro Bella Vista Cappuccini il cui utilizzo si integrerà perfettamente con la costruenda metropolitana di Catania e le strutture di mobilità previste da Agenda Urbana accordo siglato tra Acireale e Catania nei giorni scorsi in cui è previsto un parcheggio scambiatore ed altri servizi per migliorare la mobilità che sarà integrata e proiettata al futuro in altre parole sarà possibile prendere il treno in città raggiungere la stazione centrale di Catania e da lì in metro recarsi in aeroporto a costi accessibili, tempi rapidi e senza la necessità di utilizzare la propria autovettura una rivoluzione su cui l'assessore all'urbanistica Rosario Grasso lavora sin dal giorno del suo insediamento nella squadra di governo della città e con ottimi risultati considerando che il progetto di fattibilità è stato modificato e approvato dai vertici di RFI che si farà carico dell'appalto integrato ovvero progetto esecutivo e lavori mentre al comune di Acireale spetterà costruire una rampa pedonale il tutto a salvaguardia dei vincoli paesaggistici tutti gli aspetti burocratici sono stati superati spiega l'assessore Grasso ingegnere di lungo corso il quale confida contestualmente di avviare i progetti di agenda urbana e del PUT il piano urbano del traffico a garanzia di una mobilità funzionale ad una città di 60.000 abitanti a servizio di un bacino di oltre 150.000 utenti Oggi possiamo essere ottimisti perché si è integrata l'attività fatta da questa amministrazione con RFI perché io oggi ho illustrato come ho fatto altronde anche ieri in Consiglio Comunale le tre fasi di questo progetto le fasi all'inizio del 31 luglio la fase a metà settembre e la fase ad oggi ed RFI oggi ha presentato uno studio di fattibilità che consente di poter dire che le procedure per la progettazione definitiva della fermata di Cireale Centro sono oggi ben avviate questo accade anche perché abbiamo avuto qualche giorno fa una nota da parte della regione siciliana a firma del dottore Falcone dell'assessore Falcone che impegna per la Cireale un importo di 5 milioni da destinare alla fermata a Cireale Centro Cappuccini-Bella Vista l'insieme di queste due azioni quindi il progetto di fattibilità di RFI e la promessa di finanziamento della regione consentirà alla direzione centrale di RFI di portare avanti le fasi progettuali che poi porteranno alla realizzazione dell'opera Una manifestazione contro il femminicidio si è tenuta stamani all'Istituto Superiore con la Ianni di Riposto sentiamo Un paio di scarpe rosse dei fiori un posto occupato assenze che parlano e che non smettono di ricordare violenze e femminicidi ogni tre giorni una donna ancora oggi viene uccisa per mano di chi dovrebbe amarla e proteggerla dati allarmanti ricordati questa mattina dagli studenti e le associazioni Rinascendo e la Casa del Sollievo di Catania riuniti nell'Istituto Superiore con la Ianni di Riposto per una manifestazione di sensibilizzazione nell'ambito della giornata internazionale contro la violenza sulle donne celebrata il 25 novembre scorso Riposto oggi è stata una delle 201 città in tutto il mondo a trasmettere contemporaneamente questi messaggi Pensiamo che la scuola deve svolgere questo compito in modo tale da far sì che i ragazzi vengano sensibilizzati mentre sono ancora sui banchi di scuola perché probabilmente dopo è anche troppo tardi troppe volte si è scambiato qualcosa per amore qualcosa che era altro e noi vogliamo insegnare ai ragazzi che cos'è l'amore vero l'amore non è fatto mai di violenza e quindi vogliamo dire ai ragazzi qualsiasi segnale di violenza non può essere ricondotto ad amore presente all'iniziativa la sorella di Maria Rita Russo a cui è stato dedicato l'evento la giovane mamma Giarrese che nove anni fa morì a 31 anni dopo essere stata cosparsa di benzina e arsa viva dal marito sotto gli occhi dei suoi piccoli gemellini credo che parlare e raccontare quella che è stata la storia di mia sorella sia importante perché quello che mi auguro sempre è che funga da monito ad esempio i tuoi nipotini i due gemellini che lei ha salvato come ultimo atto di amore adesso sono più grandi sì i bambini oggi hanno 12 anni sono dei bambini fortunatamente sereni perché grazie ai miei genitori sono stati sono stati seguiti e quindi hanno potuto vivere una vita serena è normale che sentano la mancanza della loro mamma loro avevano solo tre anni cosa sanno di questa storia? i bambini purtroppo quella mattina erano in casa quindi hanno raccontato loro stessi alle forze dell'ordine quanto è accaduto è normale nonostante ci sono passati tanti anni quindi qualche ricordo oggi viene meno ma della storia sanno tutto sanno che è stato il loro papà a commettere questo omicidio ad uccidere la loro mamma sanno tutto l'ultima cosa che disse è stato togliete è stato lui togliete gli figli esatto Maria Rita quella mattina con grande forza lo disse a tutti ai vicini di casa a chi le prestava soccorso alle forze dell'ordine che era stato lui che l'aveva colpita prima con l'alcol e successivamente con la benzina invitava tutti a togliere i bambini perché li teneva in braccio lui quella mattina e di lui oggi cosa rimane? per quanto mi riguarda nulla per me è l'assassino di mia sorella e quello continuerà ad essere e c'è una notizia a tal proposito a Catania picchia in strada la compagna che gli nega i soldi per l'alcol e la droga la giovane donna a 21 anni aveva in braccio il loro bambino di 8 mesi l'uomo fortunatamente è stato arrestato dai carabinieri adesso vi mostriamo un innovativo dispositivo che consente ai non vedenti di leggere un testo attraverso l'utilizzo di occhiali speciali è stato il presidente dell'associazione 104 orizzontale Olus Saro Grasso nell'immagine dell'illustrare agli studenti dell'istituto comprensivo Paolo Vasta di Aceriale nell'ambito della settimana della disabilità Orcav l'innovativo sistema di lettura e individuazione dei volti progettato e sviluppato in Israele che manda definitivamente in pensione in metodo Braille e apre nuovi orizzonti e possibilità di autonomia ai non vedenti al momento però il dispositivo non è inserito nella tabellare a carico dello Stato il costo di 4.000 euro circa non può ricadere sulle tasche degli eventi diritto la Olus si è attivata a vari livelli istituzionali per ottenere le certificazioni e introdurre nell'elenco sanitario l'apparecchio composto da un semplice paio di occhiari una telecamerina collocata sulla sticella e un trasduttore tascabile capace di leggere ogni tipo di testo basta puntare il dito sul foglio ma è anche in grado di fotografare singole persone e inserirle in memoria per essere richiamate non appena l'obiettivo inquadre il soggetto memorizzato in precedenza questo dispositivo si chiama Orca è stato sperimentato da un israeliano è un ausilio che consente non solo di leggere un libro immediatamente ma ti dà la possibilità anche di riconoscere le persone perché io facendo una foto alla persona e metto il suo nome quando quella persona mi passa davanti mi dice chi c'è dentro quella stanza il nome della persona questo comunque non è un presidio che viene concesso gratuitamente ai non vedenti ma ancora bisogna pagarlo e costa anche abbastanza tanto sì è vero però noi già abbiamo fatto con il Presidente Nazionale dell'Unione Italiana di Ciechi una richiesta di poterlo mettere nel tariffario nazionale perché secondo noi è un ausilio che consente di avere la massima autonomia sia sulla lettura e sia sulla conoscenza delle immagini delle persone che ci sono attorno di noi quindi oggi è una giornata importante perché è la giornata della disabilità e quindi l'abbiamo voluto portare qui alla scuola Paolo Vasta per farlo vedere ai bambini e far capire che la disabilità non si può fare si possono fare tante cose perché io ripeto a dire con una diversità le cose che può fare una persona che è vera io la faccio con un ausilio dagli ausili tecnici ai dispositivi diagnostici di alta tecnologia una nuova sonda ecografica adesso è disponibile all'ospedale Canizzaro di Catania dimensioni minime per la sonda ecografica che arrivando fino alle diramazioni periferiche dell'albero respiratorio permette di diagnosticare e tipizzare con la maggiore accuratezza possibile le patologie polmonari neoplastiche e nonno la sonda è entrata in funzione nei giorni scorsi all'ospedale Canizzaro di Catania dunque parte anche a Catania la metodica miniature probe recentemente implementata dalla già avanzata procedura eseguita nell'unità operativa di tecniche endoscopiche e videochirurgia toracica diretta dal dottor Francesco Calanducci l'innovazione consiste nell'utilizzo di una sonda ecografica radiale del calibro di appena 2 mm in luogo di quella lineare di 7 mm capace dunque di arrivare fino ai rami più piccoli dell'albero bronchiale la metodica è utilizzata in pochi centri in Italia e si avvale della combinazione ecografica e radiografica dinamica per posizionare la sonda e successivamente eseguire il prelievo ai fini della biopsia in particolare l'amplificatore di brillanza guida la sonda fino al segmento bronchiale interessato e l'ecografia radiale individua il nodulo il beneficio della mini sonda risiede nella possibilità data al chirurgo dottoragico di esplorare la quasi totalità delle vie respiratorie per arrivare quindi alla diagnosi e all'eventuale biopsia se si tratta di neoplasia è la tecnologia più avanzata al momento che si dispone per tipizzare soprattutto la neoplasia del polmone dell'ilo polmonare del mediastino che ti permette adesso di esplorare completamente le vie respiratorie mentre prima ci fermavamo semplicemente all'ilo polmonare per le dimensioni dello strumento l'ebus propriamente detto oggi con queste mini probe possiamo raggiungere anche la periferia del polmone per cui questo è un grosso ausilio perché le terapie più moderne soprattutto con quelle forme di tumori avanzati purtroppo ne stiamo vedendo sempre di più sono fondamentali per poter avere un materiale sufficiente per individuare qual è la terapia ottimale perché negli ultimi anni si succedono sempre più scoperte che ci permettono di curare o comunque di cercare di arginare la malattia per migliorare le condizioni di vita del paziente questa è una tecnica che praticamente sfrutta l'ecografia ma a differenza della prima che sfruttava solo l'ecografia questa tecnica nuova ci permette con l'ausilio anche dell'RX classica cioè dire ci guida perché la visione del broncoscopio arriva fino a un certo punto perché oltre non può andare invece la sonda per le minime dimensioni di qualche di due millimetri in genere anche meno ti permettono di esplorare di andare più in periferia per arrivare nel posto giusto nel piccolo bronco il piccolo cacibro naturalmente non avendo la visione diretta ci serve l'RX classica dinamica che ti permette di arrivare fino a lì e lì puoi effettuare i prelievi che tipizzano la malattia se tumore è tumore se malattia benigna malattia benigna parliamo di due millimetri appena la scienza ha fatto un passo in avanti davvero gigantesco in questo caso e sì anche in questo settore naturalmente le tecnologie avanzano e l'importante è essere attenti e poter mettere a disposizione del paziente dell'ammalato tutto quello che la scienza oggi ci mette a disposizione sempre nel capoluogo etneo oggi è stato presentato il calendario dei carabinieri 2019 presentato oggi in tutti i comandi provinciali dell'arma dei carabinieri il calendario storico per l'anno 2019 un appuntamento fisso che quest'anno spegne le 90 candeline e che vanta numerosi tentativi di imitazione un oggetto di culto che unisce gli italiani all'arma dei carabinieri se è vero come è vero che lo scorso anno ha venduto oltre un milione e mezzo di copie il calendario storico 2019 accende la luce sui 54 beni dell'UNESCO custoditi in Italia ponendo l'attenzione sul cinquantesimo anniversario della costituzione del nucleo di tutela del patrimonio culturale dei carabinieri ovviamente nel calendario sono emozionalmente raffigurati gli otto siti siciliani dell'UNESCO tra questi l'Etna che vantano appunto il riconoscimento di patrimonio mondiale come dire l'importanza dei luoghi e l'importanza dei volti dei carabinieri nelle diverse declinazioni dell'arma uniti insieme per disegnare le bellezze del nostro paese parte del ricavato verrà destinato all'opera di assistenza degli orfani dei carabinieri ben sette militari dell'arma deceduti nel corso dell'anno parte all'istituto Gaslini di Genova sono 40 anni sono 40 anni dall'inserimento del primo sito unesco italiano nonché i 50 anni bisogna ricordarselo dall'istituzione del comando carabinieri per la tutela culturale 50 anni di carabinieri che lavorano per la tutela appunto del patrimonio italiano con risultati assolutamente significativi a beneficio di tutti di queste generazioni che verranno certo e non solo in Italia o in Europa ma dobbiamo ricordare anche l'intervento nei teatri per esempio di guerra tipo l'Iraq e l'istituzione dei caschi blu per la tutela culturale al via dal prossimo primo dicembre il cartellone natalizio di Riposto prenderà il via da sabato primo giorno di dicembre il ricco cartellone natalizio del comune di Riposto presentato questa mattina nella sala vascello del palazzo di città dal sindaco Enzo Caragliano e l'assessore alla cultura e spettacolo Carlo Copani momenti dedicati alla commedia agli spettacoli ai concerti non manca proprio nulla afferma il sindaco Caragliano anche quest'anno l'intento dell'amministrazione è quello di diffondere lo spirito del Natale dal cuore della città sino alle periferie la città di Riposto come ogni anno esalta le festività del periodo natalizio e cerca di creare l'atmosfera ma soprattutto quel ritorno dell'immagine turistica per la nostra città di Riposto e per le nostre strutture alberghiere e recettive è sempre un cartellone all'altezza della situazione in cui ci sono spettacoli ci sono le commedie presentazioni c'è il gran concerto di Natale eventi che arricchiscono non solo la mia collettività ma fanno trascorrere un periodo sereno e di tranquillità ai nostri turisti e ai nostri concittadini un programma ricco che parte dalle tradizioni ripostesi e che sottolinea il valore fondamentale delle parrocchie come centri di socializzazione e aggregazione ha affermato l'assessore alla cultura e spettacolo Carlo Copani ha risparmiato circa 12.000 euro quest'anno per l'organizzazione delle festività natalizie e l'amministrazione comunale ma il risultato rassicura l'assessore rimane comunque all'altezza delle aspettative della città questo è il nostro orgoglio perché siamo riusciti a realizzare un quartellone estivo particolarmente ricco coinvolgendo tutte le associazioni gran parte delle associazioni presenti sul nostro territorio e ha detto bene a lei a costo quasi zero comunque molto limitato siamo riusciti a ricreare un ambiente natalizio guardando al portafogli spendendo molto meno rispetto alle precedenti edizioni come ci impone prima che il bilancio la nostra coscienza è un Natale che punterà essenzialmente sulle tradizioni ma darà ovviamente grande spazio grande attenzione soprattutto ai bambini ci sarà una tre giorni organizzata alla Villa Pantano che la villa comunale ha riposto il polmone verde della città sarà dedicata a loro perché ci saranno diverse iniziative ovviamente rivolte ai più piccoli che poi rappresenta un po' lo spirito natalizio che ovviamente deve essere rivolto soprattutto a loro si rafforzerà l'idea delle parrocchie delle comunità parrocchiali come luogo di aggregazione oltre che ovviamente spirituale nelle parrocchie saranno organizzati degli eventi di solidarietà di fraternità ma anche dei concerti molto importanti c'è un concerto soprattutto quello del 25 quindi del 25 dicembre il concerto di Natale a cura del coro lirico siciliano ma avremo anche quest'anno per la prima volta di mattina il gran concerto di Capodanno ho citato solo due che sono probabilmente gli eventi di spicco ma ovviamente tutti gli altri eventi sono meritevoli di attenzione sono parimenti ovviamente ben organizzati domani alle 17.30 ci sarà la presentazione annuale del piano dell'offerta formativa della scuola secondaria di primo grado dell'istituto San Luigi di Acireale presso la sala multimediale dell'istituto in piazza Monsignor Penisialessi 3 con ingresso da Vicorrote 12 per chi volesse posteggiare l'auto l'istituto San Luigi è un istituto comprensivo gestito dai fratelli delle scuole cristiane coadiuvati dai collaboratori laici dispone di ampi locali di un'efficiente attrezzatura che facilita l'azione educativa e didattica della scuola con aule scolastiche climatizzate aule informatiche multimediali teatro chiesa palestra cortile e salamenza promuove innumerevoli attività integrate complementari e laboratori di vario genere con l'obiettivo di dare ad ogni singolo alunno la possibilità di scoprire e migliorare le sue doti innate per poter così operare scelte giuste per l'avvenire professionale e non e inoltre test center per gli esami Cambridge fu assieme al sindaco di Motta Santa Anastasia uno dei primi cittadini siciliani ad aderire alla Lega a distanza di un anno ha lasciato in polemica il partito di Salvini di questo ma anche dei lavori in corso ad Acci Castello e di quasi dieci anni di attività amministrativa Filippo Drago ha parlato ospite dell'intervista su ReTV canale 89 appuntamento questa sera alle 20 e 20 alle 23 e 30 ed in replica nei prossimi giorni ben trovati in studio non ci sono aggiornamenti o notizie dell'ultimo ora dunque si conclude qui la seconda edizione del nostro telegiornale che come vedete sovraimpressione è disponibile anche all'indirizzo reitv.it come anche sulla pagina Facebook in streaming e sul canale YouTube adesso ci sono le previsioni meteo per la giornata di domani a voi tutti buon proseguimento di serata tempo variabile sulla Sicilia per la giornata del 30 novembre 2018 sole e nubi si alterneranno sull'isola i mari saranno da mossi a molto mossi temperature previste nelle medie stagionali a Catania la colonnina di Mercurio oscillerà tra una minima di 10 e una massima di 17 gradi la temperatura più bassa si registrerà ad Enna con un grado di minima